Nuova tappa del progetto Taranto Città Internazionale della Settimana Santa promossa dall'Associazione La Veste Rossa con il Presidente Luigi Montenegro sottoscritto un protocollo d'intesa propedeutico alla formalizzazione di un vero e proprio gemellaggio tra la città di Taranto e la città di Granada, ma vediamo com'è andata Ma cosa prova oggi Gigi Montenegro a toccare con mano un risultato che viene da un lavoro molto remoto? Diciamo che sono soddisfatto perché l'obiettivo era molto lontano, era difficile abbiamo cominciato 14-15 anni fa un percorso che è durato per tutti questi anni e riuscire a raggiungere questo risultato non è stato semplice ci è voluto molto lavoro, ci sono voluti molti contatti, molti sacrifici, molti viaggi molto studio intorno Sono degli strumenti da un punto di vista umano importanti Devo dire che non bisogna mai fare l'errore di pensare che sviluppare le relazioni internazionali sia un fatto estetico, è un fatto sostanziale specie nell'epoca in cui molti dei programmi europei che stiamo innescando per i nostri giovani, per le nostre imprese per cambiare un modello anche produttivo come sapete hanno questi crismi, cioè quelli della collaborazione internazionale e dello scambio con altri paesi e quindi credo che sia la strada corretta da percorrere per questa città E adesso l'alcaldesa ritiene che sia il momento di fare un passo avanti cioè di andare anche oltre verso una comunione di intenti tra le due città dei percorsi virtuosi, economici, sociali e culturali anche in funzione delle grandi sfide che aspettano le due città faceva riferimento chiaramente ai giochi del Mediterraneo del 2026 che sono un'occasione unica e irripetibile per la nostra città ma anche dal loro punto di vista una città forse più abituata ad organizzare grandi eventi ma che comunque ha delle sfide importanti come l'organizzazione dei giochi universitari e poi soprattutto, un loro grandissimo punto di attenzione la candidatura a essere capitale europea della cultura del 2031 Grazie a tutti